Giovedì sera a Clusone in programma una serata nella quale si parlerà di servizi sociali anche attraverso quella che è l'offerta della Fondazione Sant'Andrea di Clusone. Sì, giovedì alle 20.30 presso l'auditorium delle scuole elementari di Clusone, la Fondazione Sant'Andrea ha organizzato questa serata per due motivi fondamentalmente. Innanzitutto per fare un po' il punto della situazione circa le varie problematiche, le varie fragilità che oggi ci sono sul nostro territorio da un punto di vista sociale e in secondo luogo per mettere in evidenza che molte di queste fragilità abbiamo comunque un braccio operativo che è la Fondazione Sant'Andrea che può dare una mano per cercare di tentare perlomeno di risolvere alcune di queste fragilità. Oggi la Fondazione Sant'Andrea offre servizi di natura socioassistenziale a 360 gradi. Molti di noi non conoscono ancora oggi tutti questi servizi che sono veramente molti e che possono dare sollievo a chi in questi momenti ha delle necessità e ha delle sofferenze. Per cui credo che sia una serata molto importante per tutti, è una serata informativa e credo che è bene che tutti sappiano quello che il territorio oggi offre. Molto spesso ci lamentiamo che nessuno ci dà retta ai nostri bisogni e alle nostre necessità, però molto spesso sarebbe bene conoscere quello che già oggi la città di Clusone offre attraverso la Fondazione Sant'Andrea. E per cui credo che sia una serata utile a tutti, sia per chi comunque ha oggi delle necessità, ma anche qualcuno che magari oggi non ha necessità, ma che vuole solo informarsi per il futuro. Credo che comunque sia un aspetto importante sapere e essere informati. Ecco, sono stati invitati anche i candidati alla carica di primo cittadino per l'emminente elezione amministrativa di Clusone. Sì, noi abbiamo invitato ovviamente tutti i sindaci della zona, i consiglieri comunali del comune di Clusone, gli assistenti sociali e gli assessori servizi sociali dei comuni che fanno capo all'ente capofila di Clusone. E per questioni ovvie legate alle elezioni comunali abbiamo invitato anche tutti i candidati sindaco delle prossime elezioni comunali di Clusone. Credo che sia un modo anche per chi non è mai entrato in contatto con il mondo del sociale, è una serata utile per capire come funziona e quali sono le peculiarità della Fondazione Sant'Andrea.